Il nuovo ospedale da realizzare a Muraglia torna a monopolizzare l'attenzione del Consiglio Comunale. Lo fa con un ordine del giorno presentato con urgenza dalla maggioranza da Luca Pagnoni di Dario e approvato col voto favorevole di 19 consiglieri in tema di rispetto dell'accordo sottoscritto sul nuovo ospedale di Pesaro. Un accordo che fa riferimento al cronoprogramma sottoscritto lo scorso 17 ottobre. A cominciare secondo l'Odg da una prima data subito disattesa. Quella del 31 gennaio che indicava l'inizio della progettazione della struttura. Alla giunta regionale un impegno importante è accelerare appunto nel realizzare il nuovo ospedale che è di cui la prima pietra dovrebbe essere posata nel settembre 2024. Di richiedere alla giunta quali reparti, quale sarà il contenuto del prossimo ospedale ma soprattutto si richiede anche di capire quali sono le prospettive sociosanitarie che la giunta regionale vorrà dare alle strutture convenzionate del territorio. Ordine del giorno non accolto di buon occhio da un'opposizione che vi ha scorto più schermaglie politiche che partecipazione ad un percorso costruttivo. La procedura per l'avvio della procedura per la gara di progettazione è già iniziata ed è iniziata a novembre quindi tutto il resto delle mistificazioni che vengono fatte mezzo stampa lasciano un po' il tempo che trovano. Il tavolo tecnico è stato avviato, quello per cui sono stati convocati alla cooperazione l'ufficio regionale dell'edilizia ospedaliera e la stazione appaltante e da quello è partito l'iter sul quale si accusa la regione di essere in ritardo ma su una cosa per cui in realtà il lavoro è iniziato. Dopodiché il tema delle tempistiche è quello che riguarda la consegna del progetto esecutivo e dell'inizio dei lavori a fine 24. Questo è l'atto che abbiamo visto in Consiglio Comunale nel maggio 22 e questo è l'atto su cui si basa il rapporto fra giunta regionale e comune di Pesaro. Tutto il resto sono elucubrazioni che vengono fatte mezzo stampa anche in questo caso a fini politici che capiamo ma dai quali ci discostiamo. Il sindaco Ricci ha esternato la preoccupazione di chi percepisce un generale peggioramento di mobilità passiva, liste d'attesa, pronto soccorso e scorge grande incertezza in questo inizio 2023. La tappa di un accordo è slittata, di un mese, di due mesi, ok. Nulla di preoccupante. Però che il Consiglio Comunale si preoccupi che il nuovo ospedale vada avanti nel modo più veloce possibile perché è pregiudiziale. È il nostro compito. Siamo dentro una situazione di trasformazione. Permettete che il Consiglio Comunale sia preoccupato del fatto che non c'è più l'azienda ospedaliera o ritenete che il Consiglio Comunale faccia spallucce che facevamo finta di essere preoccupati. L'azienda ospedaliera, che capisco era all'epoca stata una scelta come dire, non facile da fare, era la precondizione affinché la città potesse avere, la città al nord delle Marche potessero avere le eccellenze. Il fatto che non c'è più un'azienda ospedaliera a noi preoccupa, anche perché non si è capito bene come l'azienda sanitaria provinciale si debba organizzare e si stia organizzando. Siamo dentro una fase di commissariamento, siamo dentro una fase di transizione ed è giusto che il Consiglio Comunale si preoccupi. Diamo tempo a questa struttura di funzionare. Noi parteciperemo alla costruzione del nuovo piano socio-sanitario. Mi auguro che lo si possa fare insieme, ma insomma dipende tutto dall'atteggiamento che la maggioranza consigliare avrà, la maggioranza, il sindaco e la giunta. Dopodiché non vi preoccupate del cronoprogramma, cioè voi vi preoccupate del cronoprogramma? Veramente voi? Che è dal 2015 che il Palazzetto dello Sport ha iniziato i suoi lavori e doveva essere aperto nel 2018 e poi nel 2019 e poi nel 2020, poi alla fine doveva essere aperto il 21 settembre 2022 con l'arrivo del Presidente della Repubblica? Ma veramente vi preoccupate voi del cronoprogramma? Tra l'altro un cronoprogramma che non solo non è disatteso, ma che risponde perfettamente a quelle che sono le procedure interne.